Musica Amiche e amici di Super J, ben ritrovati con lunedì d'eccellenza la trasmissione di approfondimento della domenica calcistica delle formazioni, appunto il campionato di eccellenza, il massimo campionato dilettantistico regionale. Come sempre avremo i nostri ospiti con cui chiacchierare, scambiare qualche chiacchiere, soprattutto esaminare gli episodi che andremo a proporvi questa sera, estrapolati da alcune partite. Alcuni episodi hanno fatto discutere, hanno fatto arrabbiare gli allenatori e i giocatori, altri insomma confermano la bontà della scelta degli assistenti e degli arbitri. Presento subito gli ospiti, inizio dalla mia sinistra, il presidente del San Buceto Alfiero Vecchiotti, buonasera presidente. Buonasera, grazie dell'invito. E benvenuto nel nostro salotto. Saluto anche con piacere il direttore sportivo della Folgore Delfino Curi Pescara, che è capolista assieme al Giulianova e al Teramo, Roberto Sara. Buonasera. A tutti. Tra l'altro non è solo il direttore sportivo perché si occupa di tante mansioni all'interno della Folgore e poi ne parleremo. E ritrovo come sempre Andrea Scianitti. Buonasera Andrea. Buonasera Lino e buonasera a tutti i telespettatori. È stata una domenica importante, come sempre, perché insomma ci sono stati un paio di big match. Non sono arrivati i segni X da queste partite. Mi riferisco in modo particolare Ovidiana Sulmona contro la Renato Curiangolana, con la vittoria netta della Renato Curiangolana e poi la vittoria della Folgore Delfino Curi Pescara sulla Vastese. Una vittoria che comunque ha fatto un po' discutere per un episodio, ma questo ne parleremo poi più tardi. Ma ha confermato la bontà di due squadre che reciteranno un ruolo di primo piano in questo campionato. Bene il Sambuceto ha perso contro il Teramo nell'anticipo di sabato, però dobbiamo dire che la squadra insomma è in salute. Forse mancano dei punti al Sambuceto. Oserei anche togliere le forze perché abbiamo già visto alcuni episodi nelle precedenti occasioni che hanno penalizzato la squadra viola. Però prima di entrare direttamente in questa puntata andiamo velocemente a dare uno sguardo ai risultati maturati ieri e sabato con l'anticipo Sambuceto-Teramo e soprattutto la nuova classifica con il contributo della grafica. In RG abbiamo Francesco Di Carlo questa sera. Sambuceto-Teramo 1-2, Casalbordino-Union-Fossacesi a 0-0, Castelnuovo-Virtus-Cupello 3-0, Celano-Torrese 2-2, Folgore-Delfino-Curi-Pascara-Vastese 2-1, Giulianova-Montesilvano 3-1, Vidiana-Sulmona-Renato-Curi-Angolana 0-3, la vittoria in trasferta a Tossicia del Capistrello su Ponte Vomano per 2-1, Sant'Egidiese-Spoltore 1-1. Una partita ricca di episodi, ben nove, e li vedremo poi più tardi. Partiremo proprio da questa sfida. Vi proporrò anche il servizio. Adesso la classifica, chiaramente, dopo tre giornate. Sono tre le squadre a punteggio pieno. Abbiamo il Teramo, il Giulianova, la Folgore-Delfino-Curi-Pescara e domenica, pensate, inizio gara, ore 15, ci sarà il big match tra Teramo e Folgore-Delfino-Curi-Pescara. Due squadre che si sono già affrontate in Coppa Italia, una vittoria per parte, 1-0 per la Folgore al San Marco di Pescara, 5-1 per il Teramo al Pigliacelli di Montorio. E poi abbiamo le altre, Renato-Curi-Angolana-Castelnuovo, bel balzo in avanti per il Castelnuovo, seconda vittoria consecutiva. Vidiana-Sulmona, sei punti. Spoltore 5, Vastese, Sant'Egidiese e Casalbordino 4, tre punti per Capistrello-Virtus-Cuppello, due per Celano, Sambuceto e Ognon-Fossacesi, un punto per la Torrese e chiudono la classifica Montesilvano e Pontevomano. Inizio subito dai miei ospiti, Presidente Vecchiotti. Sambuceto che ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno, ricordiamo, voi avete vinto anche la Coppa Italia battendo l'Aquila, gara che noi abbiamo trasmesso tra le altre cose in diretta, è ricca di emozioni, decisa poi ai rigori. Però quest'anno ci sono, insomma, sono state un po' rimescolate le carte e la politica del Sambuceto è quello di andare avanti con un bel pacchetto di giovani accompagnati da alcuni giocatori di esperienza. Sì, esattamente. Dice bene lei, direttore, che la politica è cambiata anche perché l'assetto societario è modificato con l'uscita del nostro patron Gabriele Liberatore che, come tutti sanno, è andato alla Delfino Curi e quindi noi abbiamo dovuto ridimensionare un po' le cose e rifare l'assetto societario. Questo è stato possibile grazie all'ingresso e al ritorno di parecchi dirigenti che c'erano prima e chiaramente mettendo come programma un programma fatto di ridimensionamento a livello economico e di valorizzazione dei giovani. Quindi abbiamo fatto una squadra giovane, a cominciare dallo stesso staff tecnico, perché il mister Francesco Dezzotti è giovanissimo, pur avendo parecchi... Si parla bene di Dezzotti comunque, Presidente? Sì, sì, il mister Dezzotti è, diciamo, in questo momento è l'elemento più importante per noi perché sta coagulando molto bene una squadra di giovani con degli innesti di persone, di tre, quattro ragazzi che vengono dalla Spagna. Quindi anche per loro c'è un piccolo periodo iniziale di adattamento al calcio italiano. Ricordiamo anche che avete perso Ragneri, il bomber... Abbiamo perso Ragneri che è andato a Notalesco e quindi la squadra... Ma tanti altri abbiamo riconfermato solo due o tre elementi, quindi puntiamo su una politica dei giovani, puntiamo su... Volevamo rifare, riportare San Buceto, molti ragazzi di San Buceto che giocano, però questo non è stato possibile e me ne dispiace perché volevo almeno avere quattro, cinque elementi rose che fossero ragazzi proprio del nostro territorio, hanno deciso diversamente, benissimo così. E quindi contenere e tenere sotto controllo l'aspetto economico perché questo è molto importante perché una società deve avere un futuro, deve avere non solo questo campionato ma anche il futuro e quindi bisogna stare molto... bisogna essere molto attenti all'aspetto... Però dobbiamo dire che è stato importante dopo l'uscita del socio di maggioranza, diciamo, del padrone, esatto, ripartire, perché voi ci siete riusciti, c'era stato un momento in cui sembrava... Sì, c'era stato un momento in cui veramente avevamo ridato un po' le cose, rimesso il titolo a mano all'amministrazione comunale facendo sì che si smuovesse un po' di acqua intorno a questa squadra che ripeto è una squadra storica, ha oltre 60 anni di storia e non ultimo abbiamo conquistato il titolo più importante nel mese di febbraio vincendo la Coppa Italia nella finale contro l'Aquila quindi... La corazzata l'Aquila... Non è stata una vittoria di po'... un risultato di poco conto... Peraltro senza Ragneri... E quindi... Senza Ragneri voi avete vinto la Coppa Italia senza... Sì, Ragneri non ha giocato la finale perché era squalificato... Era squalificato... Era squalificato, sì, prese la munizione a Giuliano nella semifinale e questo gli pregiudicò di poter partecipare alla finale, quindi senza di lui siamo riusciti anche con un po' di fortuna perché chiaro bisogna anche ammettere che c'è stato in quell'occasione per noi un po' di... Sì, diciamo che il gol del 2 a 2 era arrivato al centoventesimo e poi Rigori... E' un ragazzo del 2005 ha fatto il gol del 2 a 2 al centoventesimo poi a Rigori è stato molto bravo il nostro portiere Giacomo Di Donato che per parentesi quest'anno gioca col Campobasso quindi ha fatto un bel passo avanti questo ragazzo molto promettente quindi siamo contenti pure per questo per lui che sta andando avanti quindi ha fatto quel miracolo di parare Rigori a Scipioni e che ci ha permesso di portare a casa la Coppa però dopo tutto questo abbiamo avuto un momento di... di poca... e quindi abbiamo rimesso le cose a posta adesso stiamo ripartendo bene, stiamo ricostruendo bene la società e ripeto, puntando sui giovani abbiamo tanti, tanti, tanti... Sì, ma abbiamo visto anche in questo periodo... sono anche di buona qualità, chiaramente peccano un po' di esperienza ma è normale che un giovane che gioca per prima volta un campionato d'eccellenza a questo livello pecca un po' di esperienza però siamo fiduciosi che nel proseguo l'obiettivo che noi ci siamo prefissati riusciremo a portare a termine la categoria... a proposito di giovani, la Folgore Delfino Curi Pescara è una società che lavora con tanti giovani io ho avuto modo di conoscere il mondo Delfino Curi Pescara nella passata stagione, voi avete circa 400 ragazzi che ruotano attorno a questa società avete uno staff tecnico di allenatori preparati, tra l'altro ex giocatori parliamo di elementi che conoscono il calcio lei direttore è anche... è un filo diretto con il settore giovanile e ha questo filo diretto Folgore che quest'anno mi sembra voglia fare qualcosa di più rispetto agli anni passati si parlava già dei 50 punti da superare ma l'obiettivo mi pare come minimo centrare i playoff e dare fastidio a chi invece dichiaratamente vuole puntare alla vittoria del torneo Teramo e Giuliano va su tutte Intanto rimaniamo nel confermare un buon pacchetto di linea giovanile noi negli ultimi due anni, insomma anche per minutaggio c'è stato riconosciuto che abbiamo fatto giocare sicuramente tanti ragazzi diversi arrivavano dal settore giovanile che ha comunque una cura particolare, tanto più insomma io sono stato cointeressato dalla prima partnership tra la Curi dei presidenti Croce, Martorella, Sasso e Agresta e poi anche dalla seconda con l'ingresso del patron liberatore che ha dato un supporto anche di convergenza economica che può dare una tranquillità diversa e ha anche fatto sì che ci fossero degli investimenti leggermente diversi che dovrebbero portare a un aspetto migliorativo rispetto a quanto conseguito nella scorsa stagione Siamo dicendo anche l'attuale patron Paluzzi perché è uno che ha investito molto Assolutamente, intanto mi hanno pregato di dedicare la vittoria di ieri sicuramente al patron Paluzzi che non era presente e unitamente al patron Gabriele Liberatore perché comunque si sono uniti, hanno trovato fiducia reciproca premiando i 30 anni di supporto del presidente Paluzzi in questo tipo di situazione e poi questo è stato sicuramente un vantaggio avere un supporto di questo genere e chiaramente i ragazzi che sono arrivati qualcuno anche dalla compagine dell'exambuceto penso a Mattia Rodia che è arrivato tra gli ultimi ma anche altri ragazzi stranieri che sono presenti con tutti i nostri giovani sanno che l'obiettivo è percorrere delle aree di miglioramento noi abbiamo fatto dei colloqui individuali all'inizio della stagione per capire se avevano nelle loro intenzioni percorrere delle aree di miglioramento individuale che portassero a delle aree di miglioramento collettivo questo è un po' quello che pensiamo che i team che puntano ad eccellere debbano avere questo nella loro programmazione e quanto è stato fondamentale tenere mister Bonati perché io ricordo l'ultima intervista fatta a Giulianova dopo la sconfitta aveva parlato il mio lavoro aveva detto chiaramente il mio lavoro è terminato qui oggi poi però è ripartito subito perché la Folgola è la prima società abruzzese a iniziare l'attività, la preparazione disputando anche amichevoli importanti e mettendo benzina nelle gambe intanto c'è una consapevolezza dentro la cultura di questa società che visto che il campionato se non ricordo male è finito a fine aprile aprile sì in Abruzzo questa era quindi finendo a fine aprile lasciare i ragazzi fermi più di un mese non è atleticamente intelligente per cui cercando anche di evitare delle situazioni di infortunistica mettere in campo subito e da giugno è stato fatto così mi collego al fatto che il mister Guglielmo Bonati che è lui che rappresenta la figura di direttore sportivo io quella di direttore generale giusta precisazione perché lui chiaramente ha una visione molto attenta sul mercato ed è un uomo che vive di calcio quindi probabilmente se non l'avete fatto qui lo avrebbe fatto da un'altra parte abbiamo una dialettica quotidiana continua comunque delle caratterialità che si compensano e si aiutano è un vulcano questo lo avevo detto mister Guglielmo ed è un vantaggio perché comunque la cura dei particolari veramente attenta e maniacale da una parte porta a far sì che non tutti riescono a starci perché bisogna anche dire questo c'è la selezione comunque la selezione naturale non c'è un'imposizione ma si sa bene in quale ambiente quali attenzioni vengono richieste e dall'altra parte chi ci sta devo dire che negli ultimi anni perché comunque anche io la mia presenza seppur in altri ruoli in questa società è abbastanza storica ha visto che chi è saputo stare in queste dimensioni ne ha tratto dei vantaggi insomma proprio come crescita di persona crescita individuale tecnica e tattica poi voi lavorate anche con il settore femminile perché una vostra giocatrice se non va derrato ha indossato la casacca di una squadra di Serie A come l'Inter giusto? in questo caso si tratta di Angela Passeri che tra l'altro con uno dei mister che oggi è il secondo era una delle giocatrici degli allievi nel 2004 che allenavamo assieme curando la preparazione atletica lui l'aspetto tecnico-tattico è una ragazza che ha fatto il suo percorso andando con proprietà all'Inter quest'anno gioca al Sassuolo dopo essere passata a Pomigliano ed è ancora capitano della nazionale Under 19 insomma a conferma dell'ottimo lavoro che si fa alla Folgore Andrea Scianitti allora che domenica è stata? perché tra poco inizieremo con il primo servizio andremo ad esaminare tutti gli episodi che sono accaduti in questa gara e mi riferisco in modo particolare a Sant'Egidiese e Spoltore che domenica è stata questa terza giornata? diciamo che è stata una domenica in cui le due big non hanno dell'uso le aspettative anche se per il Giuliano è stata un po' più tra virgolette semplice la partita per il Teramo è stata è stata dura perché il Sambuceto il Sambuceto ha giocato davvero una grossa partita e ha tenuto i ritmi del Teramo e ha messo in difficoltà proprio questo e ha messo in difficoltà il Teramo poi c'è stato questo scontro tra Ovidiana Sulmona e Renato Curiangolana che comunque ha dato dei segnali importanti ha detto che magari l'Ovidiana Sulmona in questo momento non è pronta per stare lì davanti per fare il salto di qualità con le altre lì davanti poi naturalmente c'è tempo il campionato è lungo e la Renato Curiangolana che ha risposto bene dopo il K.O. con il Giulianova e poi la Folgore del Finocuri Pescara che ci ha tra virgolette stupito perché comunque sappiamo la forza della vastese ma la Folgore del Finocuri ci sta dimostrando domenica dopo domenica che può e merita di stare lì ti sorprende lo zero in classifica del Ponte Romano intanto ricordiamo il primo punto per la Torrese ma sinceramente mi sorprende lo zero del Ponte Romano perché credo che nonostante siano andati via degli elementi importanti come detto anche nelle settimane scorse comunque sono arrivati dei giocatori pronti per la categoria anche se Fabrizi comunque ha giocato penso solo la prima partita poi ieri non c'era la seconda e la terza le asaltate mi sorprende perché credo che il Ponte Romano meriti sicuramente di non stare lì in classifica per la forza della rosa e per la forza dell'allenatore allora dicevamo della prima sfida vedremo anche la gara tra la Folgore del Finocuri Pescara e la Vastese e andremo ad esaminare un episodio però iniziamo proprio da Sant'Egidiese Spoltore perché sono diversi i casi sotto la lente di ingrandimento partita vibrante tra Sant'Egidiese e Spoltore entrambe reduci da due vittorie nella scorsa giornata partita decisa dagli episodi pronti e via ed è subito vantaggio Sant'Egidiese al secondo minuto Pendenza sfrutta una palla persa dei giocatori dello Spoltore che nel frattempo aspettavano un fisco arbitrale e premia l'inserimento di Mariani Gibellieri che non perdona Pelusi per l'1-0 Sant'Egidiese lo Spoltore prova subito a reagire e presidia con insistenza l'area di rigore avversaria al dodicesimo minuto primo episodio dubbio della gara con il giovane Gabriele che si incune in area di rigore e viene contrastato da Cichella il numero 11 va giù ma il direttore di gara De Julis facendo che si può proseguire sette minuti dopo altro contatto in area di rigore della Sant'Egidiese volta con l'attaccante Padovano ma anche in questo caso l'arbitro non interviene e ammonisce Bratelli per proteste al 26esimo minuto ennesimo episodio dubbio contropiede della Sant'Egidiese che prende di infilata la difesa spoltorese con Pantoni che rientra sul mancino e segna una gran rete con un tiro a giro sul secondo palo sembra tutto regolare ma il guardaline con un attimo di ritardo alza la bandierina e ferma tutto per fuori gioco di pendenza che al momento del tiro ostacola la visuale di Pelusi proteste per i giocatori della Sant'Egidiese che comunque continuano a premere a creare occasioni al 28esimo lancio lungo della difesa che pesca Manari che con un gran destro impegna Pelusi sulla ribattuta si fionda pendenza ma ancora una volta Pelusi attento e respinge il primo tempo si chiude con un brivido per i vibratiani che non difendono benissimo su una punizione al limite di ventola palla che arriva Bratelli che sbilanciato da due passi mette a lato spoltore che continua ad attaccare alla ricerca del pareggio anche ad inizio ripresa sempre con il solito ventola che semina un paio di difensori e mette a rimorchio per Camplone ma il tiro del 10 è alto sopra la traversa nuove proteste arrivano al 55esimo minuto quando pendenza viene atterrato in area ma ancora una volta nessun fischio il pareggio dello spoltore arriva due minuti dopo calcio d'angolo di Zanetti respinto dalla difesa palla che torna sui piedi del capitano che mette in mezzo un pallone sul quale si avventa di testa Gabriele Gragnoli para distinto di piede sul campanile il no entrato di Hum allunga il braccio per stoppare per De Julis non ci sono dubbi calcio di rigore sul quale va Capitan Zanetti che con un brivido pareggia i conti con dedica ai tifosi spoltoresi sugli spalti la Sant prova a reagire e all'ora di gioco ha la sua occasione più ghiotta un buco dei centrali dello spoltore apre lo spazio a pendenza che a tu per tu con il portiere calcia sul palo per la Sant il volto del match cambia al settantottesimo minuto quando Capitan Petronio si fa espellere con un doppio giallo per proteste e lascia il suo in dieci per tentare di portare i tre punti a casa ma lo spoltore approfitta della superiorità numerica e sfiora il vantaggio cinque minuti dopo con un contropiede due contro uno guidato da Padovano l'attaccante al limite dell'area scarica per Pontilli che tutto solo sbaglia clamorosamente uno dei più semplici tapin la squadra di Ronci attacca a testa bassa per cercare di vincere la partita e all'ottantacinquesimo il solito ventola dalla sinistra imbuca per Mancini ma Gragnoli risponde presente e salva i suoi nel finale succede di tutto all'ottantottesimo Grazioli viene servito in area di rigore ma perde l'equilibrio nella coordinazione per il tiro forse sbilanciato da un avversario anche stavolta per l'arbitro De Julis non è calcio di rigore e iniziano così le vementi proteste della panchina di mister Cichella e un'animosa contestazione sugli spalti dove i tifosi di casa lanciano un fumogeno in campo che sfiora il guardaline che rientra di corsa nel tunnel degli spogliatoi l'arbitro sospende così la gara per qualche minuto per poi riprenderla invece dopo che gli animi in campo e fuori si sono placati la partita si conclude dopo 5 minuti di recupero e nessun'altra emozioni le due squadre si spartiscono così la posta in palio e continuano il loro trend positivo rientriamo in studio vi ho detto che ci sono nove gli episodi da esaminare andremo veloci però un paio li vedremo prima della pubblicità iniziamo proprio dal gol realizzato dalla Sant'Egidiese perché ci sono state le proteste da parte dei giocatori dello spoltore un gol viziato probabilmente da un fallo poi vedremo assieme ai nostri ospiti allora se la regia è pronta possiamo vedere il primo episodio fallo di pendenza su Terrenzio ecco qua praticamente un pendenza si aggrappa al braccio di Terrenzio che sta uscendo palla al piede le immagini credo che siano inequivocabili chiedo ad Andrea no sì mi viene da sorridere perché effettivamente è fallo ma cioè nel senso è fallo è stato un un movimento d'astuzia da parte di pendenza conosciamo l'esperienza di questo attaccante che non l'ha fatto non l'ha fatto vistosamente eccolo lì l'arbitro chiaramente questo è fallo il fallo è da fischiare però mi viene un pochino da sorridere perché conoscendo l'esperienza di pendenza anche Terrenzio è un giocatore di esperienza sì diciamo che l'arbitro è stato tratto in inganno dal braccio di pendenza che non si è staccato dal corpo più di tanto direttore era da fischiare quel fallo non riesco a giudicare questo tipo di situazione e invece per il presidente Vecchiotti certamente era da fischiare andiamo avanti secondo episodio perché ci sono le proteste per da parte dello spoltore per il rigore non concesso su Gabriele vediamo l'episodio eccoci qua c'è il numero 5 della che sarebbe Cichella tra l'altro della Sant'Egidiese che spinge Gabriele secondo me non è rigore in questo caso no non mi sembra un contatto da faccio di rigore questo direttore voto no no quindi è molto lieve il contatto quindi non si può dare un rigore così siamo tutti d'accordo vediamo il terzo episodio poi andremo in pubblicità perché qui sono due i falli i presunti falli chiesti dallo spoltore ecco qua c'è il primo su Gabriele e il secondo su Silvestri perché Silvestri tocca il pallone poi viene travolto ma per me è più fallo l'intervento ai danni di Gabriele perché il difensore lascia la gamba larga e il ragazzo credo sia un 2006 2007 il numero 11 dello spoltore va giù e neppure protesta più di tanto Andrea inizio sempre da te per me sinceramente non c'è fallo in nessuno di due episodi perché nel primo comunque è vero che il difensore lascia lì la gamba ma prende la palla quindi quanto vedo esatto il difensore prende la palla poi naturalmente con la carambola l'attaccante va a toccare nella seconda non mi sembra ci sia contatto tra i piedi e invece guardando bene a rallenti Silvestri anticipa il giocatore avversario guardate qui la palla che si allontana e poi prende il scolpo non lo so perché non vedo contatto tra i due mi sembra che si sia lasciato andare anche quest'altro episodio abbiamo ovviamente opinioni differenti chiedo al direttore non è rigore nessuno in entrambi i casi direttore no vecchiotti presidente per me la prima situazione è da rigore è un po' tipo il fallo che ha fatto il difensore della Vastese domenica scorsa con noi su Marchionne Andrea uguale ha allargato la gamba e ha dato la gamba alla gamba dell'avversario per me è più fallo la prima situazione poi è chiaro se da rigore alla prima situazione la seconda viene meno allora la pensiamo allo stesso modo Andrea è il direttore alla stessa maniera fermiamoci un attimo pubblicità siamo già oltre abbiamo anche altri episodi da esaminare rientriamo in studio andiamo avanti con gli episodi relativi alla gara a Sant'Egidiese Spoltore andiamo adesso al quarto episodio il gol annullato al Sant'Egidiese il gol di Pantoni tra l'altro un bel gol lo vediamo adesso ecco qua perché c'è Pendenza che è sulla traiettoria del tiro e vediamo che un attimo prima dobbiamo vedere nel momento in cui parte scocca il tiro Pendenza è oltre la linea dei difensori è ostacola tra le altre cose la visuale del portiere quindi credo che non ci siano dubbi su questo su questa segnalazione quindi giusta la decisione dell'assistente anche se con un attimo di ritardo alza la bagnerina ecco qua la palla è entrata ma si può parlare sicuramente di gol annullato andiamo al quinto episodio perché Pendenza chiede il calcio di rigore anche qui ci sono state le discussioni le proteste da parte della Sant'Egidiese vediamo qui chiedo direttamente ad Andrea se questo è il calcio di rigore per me no non c'è il calcio di rigore vecchiotti direttore no sono tutti d'accordo diciamo che sono tutti episodi al limite che però io non avrei finito tra l'altro il contatto forse la gamba destra ma il difensore sta in linea col corpo andiamo avanti perché la Santa ha protestato tanto in occasione del rigore dato allo spoltore però anche qui la bontà della scelta del direttore di gara viene confermata dalle immagini che adesso vi propongo parte il traversone di Zanetti il pallone che torna in area guardate qui c'è Dium in pratica con il braccio largo c'è il numero 9 dello spoltore a contrasto però diciamo che il movimento non è assolutamente congruo da parte del giocatore della Santa che era entrato poco fa questa è la mia opinione Andrea sì sì assolutamente per me il braccio è largo quindi è calcio di rigore Presidente Vecchiotti sì pure per me anche se vedo una piccola spinta del giocatore dello spoltore però il giocatore della Santa ha il braccio troppo largo troppo distante dal corpo entrambi però guarda entrambi la palla e si spingono però lui c'ha il braccio troppo largo e quindi direttore d'accordo quindi il rigore sicuro andiamo adesso velocemente all'espulsione di Petronio il capitano della Santa che tra l'altro avevamo ospite una settimana fa qui a lunedì d'eccellenza salutiamo il capitano della Santa capisce subito per l'eccesso di protesta arriva il secondo giallo si toglie immediatamente la fascia del capitano per non perdere altro tempo abbandone il campo salterà la prossima gara rigore chiesto da Grazioli andiamo adesso ancora al penultimo episodio l'ottavo di questa partita intensa perché protesta la Santa ma secondo me si sbilancia il numero 15 della Santa Andrea direttore non è rigore vecchiotti no assolutamente no e poi l'episodio secondo me più grave che potrebbe costare caro adesso alla Santa perché è stato lanciato un fumogeno che ha sfiorato il guardalini che a un certo punto lo vedete abbandona il campo va verso il tunnel che porta agli spogliatori il fumogeno che viene raccolto immediatamente da un inserviente che invita i tifosi a mantenere la calma l'arbitro nel frattempo va a far lottare con Cichella il tecnico della Santa che chiedeva appunto il calcio di rigore nella circostanza appunto precedente la gara viene sospesa per alcuni minuti poi verranno dati 5 minuti di recupero si tornerà in campo partita che viene portata a termine adesso è chiaro che bisogna capire cosa è stato scritto sul referto e cosa accadrà ma minimo l'ammenda nei confronti della Santa ma qui si rischia addirittura la squalifica del campo Andrea ma sì questi sono brutti episodi che non vorremmo mai vedere su nessun campo da calcio che sia terza categoria o che sia Serie A sono episodi da condannare sicuramente verranno presi dei provvedimenti e speriamo che non si ripeta più direttore sicuramente lo sport lo spettacolo vanno ampiamente garantiti e promossi sono assolutamente favorevoli abbiamo ospitato due tifoserie significative Teramo e Vassese devo dire che hanno garantito lo spettacolo e si sono veramente comportati in modo esemplare poi dopo se si mette a rischio l'incolumità delle persone perché può anche accadere che una situazione del genere crei un danno fisico allora bisogna far sì che si individui il responsabile al di là della sì perché poi pagano tutti in caso di squalificare nel campo paga la società pagano i tifosi quantomeno il responsabile dovrebbe no ottenere un provvedimento ad persona ma ecco sabato c'è stata San Buceto Teramo c'è stato un episodio noi abbiamo letto delle cronache Presidente io cerco adesso di affrontare il tema anche per cercare di fare chiarezza una collega giornalista è stata colpita da una pallonata adesso sembra che questa pallonata sia arrivata dai tifosi del Teramo lei Presidente era però allo stadio che cosa è accaduto? Sinceramente ci siamo rimasti sorpresi ieri vedendo dei sottotitoli su una tv locale San Buceto colpita la giornalista con la telecamera innanzitutto se è successo qualcosa ci scusiamo con la giornalista per l'amore di Dio ci mancherebbe altro però a noi non è sembrato niente anche perché non abbiamo avuto nessun sentore di cosa anche perché è stata una giornata veramente encomiabile da un punto di vista sportivo perché è stata una bella partita poi i tifosi si sono comportati bene c'è stato un servizio di ordine pubblico eccezionale e quindi ringrazio anche la questore di Chieti ringrazio la stazione Carabinieri Carabinieri di San Buceto in primis il maresciallo Damiani che ha coordinato molto bene il servizio è stata veramente una bella giornata di sport e quindi eravamo tutti tranquilli ieri abbiamo visto questa cosa e ce ne dispiace però ripeto non ci siamo accorti di niente e non abbiamo visto niente altrimenti saremmo sicuramente intervenuti quindi chiedo scuse eventualmente alla vostra collega e io stamattina ho cercato pure di chiamarla al telefono per avere notizie se c'erano qualche altro problema quindi però ripeto devo dire che anche i tifosi del termo che erano tantissimi sono venuti tranquilli ma non hanno creato problemi come abbiamo avuto purtroppo con i tifosi della vastese nella partita di Coppa Italia dove abbiamo avuto un po' di difficoltà invece sabato i tifosi del termo sono arrivati tranquilli si sono messi al posto loro assegnati hanno fatto il tifo come giusto per la propria squadra e quindi ripeto noi non avevamo avuto nessun sentore però se la signorina la signora giornalista racconta di questa cosa ce ne dispiace purtroppo il nostro campo è piccolo non abbiamo uno stadio dove la cabina io infatti mi sono andato e quindi quindi si devono chi fa il servizio un po' si deve pure un po' adattare noi mi ricordo la partita con il campo basso nella fase nazionale di Coppa Italia c'erano otto telecamere dove lo metteranno l'abbiamo messo lì in fila purtroppo però devo dire una cosa presidente il calcio direttantistico abruzzese ma in generale in Italia sta suscitando interesse perché è un calcio che qualcuno definisce di nicchia ma è un calcio che propone comunque uno spettacolo ad un paese ad una città a certi livelli perché poi se pensiamo all'eccellenza pugliese ci sono piazze importantissime che fanno 3.000 4.000 spettatori anche in Abruzzo abbiamo piazze non abbiamo più l'Aquila ma c'è il Giulianovo c'è il Teramo abbiamo Giulianovo Teramo Vastese quindi fanno pubblico quindi sono piazze seguite calde no e gli impianti sono quelli che sono però San Buceto è dimensionato ha un impianto dimensionato alla propria realtà la propria realtà bene noi stiamo aspettando il comune si sta attivando per fare la nuova tribuna con la nuova cabina però purtroppo in Italia in questo momento la situazione economica il San Marco è un bel impianto il San Marco è diventato un bel impianto all'interno di questo quartiere bello andiamo avanti intanto il presidente ci ha tenuto a chiarire l'episodio che è accaduto sabato io ho chiesto al tecnico in regia di recuperare almeno un episodio in cui c'è una bellissima parata del portiere del Teramo su un tiro da parte del vostro giocatore perché credo che la partita fosse sull'1-1 sull'1-1 esattamente lì c'è stato il palo colpito nel primo tempo proprio dalla San Buceto sull'interno del portiere del Teramo se riusciamo a recuperarlo grazie a Francesco Di Carlo andiamo a vedere adesso altri due episodi però riguardano la partita Pontevomano Capistrello perché ci sono state le proteste da parte del Pontevomano sul gol del Capistrello che però è regolare da come insomma le immagini tra poco dimostrano andiamo un attimo a vedere appunto l'episodio il gol credo sia di Fischetti ecco qua momento in cui il giocatore riceve palla la posizione è assolutamente regolare perché quantomeno sono due i giocatori a tenere in gioco il numero 9 del Capistrello credo che non ci siano dubbi André no direttore sembra partire dietro sì cioè noi quando dobbiamo criticare magari un arbitraggio poco sufficiente lo facciamo vedere e facciamo vedere anche la regolarità perché l'assistente la la signorina credo Diana Diana Di Meo Di Meo ha diretto diciamo ha seguito bene l'azione nella città perfettamente in linea esatto andiamo adesso invece ad un episodio finale lì ci sono state le proteste anche di mister Cifaldi perché il Ponte Romano ha chiesto il rigore vedremo che non si tratta di rigore ma il fallo è assolutamente evidente questo è un fallo tutta la vita compiuto dai danni di Marini che poi cade in area e l'impressione anche noi durante la diretta avevamo avuto l'impressione che il fallo fosse avvenuto in area ma rivedendo noi abbiamo la fortuna poi di rivedere le immagini il fallo avviene fuori il problema è che l'arbitro nella circostanza non ha fischiato nulla Andrea ma mi sembra superfluo commentare queste immagini perché è chiaro ed evidente che il fallo si vede naturalmente che è fuori area ma non sanzionare nemmeno il fallo mi sembra mi sembra una decisione bizzarra io allora questa trasmissione nasce con l'intento lunedì d'eccellenza proprio di far vedere gli episodi dubbi che accadono sui campi abruzzesi ed è anche un'occasione per gli arbitri di rivedere magari rivedersi e capire dove è stato commesso l'errore dove invece la decisione è stata presa direttore chiedo a lei su questo episodio insomma il fallo credo che sia c'era un fallo che comunque era fuori dai limiti dell'area di rigore però come ha detto lei l'intento delle trasmissioni delle riprese che sono a disposizione è quello di far sì che tutti i protagonisti riescano per parte loro a capire dove migliorare mettendosi nelle migliori condizioni gli arbitri nella visuale i giocatori ma questo è l'intento noi non stiamo qui con i fucili puntati contro i fischietti i giovani fischietti abruzzesi ma anzi li vogliamo proprio aiutare a crescere chi sa magari ritrovare un altro arbitro in Serie A ultimamente però dobbiamo dire che negli ultimi anni abbiamo una buona generazione andiamo adesso poi arriveremo direttore a Folgore del Finucuri Pescara Vastese a Giulianova perché c'è l'attaccante Cognini intanto chiedo a Francesco se l'episodio di San Buceto Terramo è stato recuperato dicevamo appunto Giulianova Montesilvano gara che è finita 3 a 1 per i giallorossi Cognini chiede il calcio di rigore nel primo tempo è stata una gara comunque maschia perché il Montesilvano giovane squadra molto giovane quella di Antignani ha messo in campo anche una certa cattiveria agonistica sul rigore però dobbiamo dire che qui l'arbitro ha visto bene se l'episodio è pronto lo andiamo subito a vedere eccoci qua cade a terra Cognini alza le braccia chiede il calcio di rigore ma io credo che sia l'attaccante del Giulianova di esperienza che vada direttamente che cerca appunto il contatto con il difensore inizio dal presidente Vecchiotti questa volta si si ha detto bene lei cioè non esiste il calcio di rigore direttore mi associo Andrea credo sono d'accordo con i nostri ospiti andiamo adesso a vedere invece un episodio che è costato tanto a Lorenzo Giglio che è ragazzo che è rientrato da poco dall'infortunio giocatore tra l'altro una promessa del calcio giuliese perché è stato costretto a lasciare il campo dopo un brutto intervento che l'arbitro non ha sanzionato neppure con un cartellino giallo dobbiamo dire che l'arbitro nel primo tempo aveva scelto questa linea di far giocare poi nel secondo tempo ha un po' cambiato la decisione perché rischiava di perdere insomma il volso della situazione allora il presidente Vecchiotti sta già commentando qui non c'è stato neppure il cartellino giallo no lì è espulsione è entrata a gamba tesa proprio è un'entrata a gamba tesa lì c'è l'espulsione direttore come ha fatto l'arbitro non lo so è lì l'arbitro soprattutto per il danno procurato finale bisogna fare delle valutazioni a te sì assolutamente perché poi Lorenzo Giglio è uscito ha dovuto fare ghiaccio al ginocchio è il ginocchio infortunato da capire adesso i tempi di recupero del ragazzo fortunatamente insomma pare che siano più brevi del previsto ma qui come minimo minimo è minimo il giallo ci doveva stare giusto direttore sì sì sicuramente sono interventi che hanno bisogno di una certa attenzione l'arbitro deve anche tutelare l'incolomità dei ragazzi esatto e questo no e lui deve metterci del suo l'arbitro però poi si è reso conto della situazione che rischiava di degenerare perché espelle mancare mammarella espelle mammarella con il secondo giallo per un altro intervento diciamo così maschio oltre il limite resta infortunato anche mammarella vedete qui l'intervento del giocatore entra in spaccata gamba tesa insomma anche qui credo che come ha munito mammarella il secondo giallo doveva munire in precedenza per il fallo subito da Giulio questi mi permetto questi sono due falli da rosso diretto da rosso diretto pure questo pure questo fallo rosso diretto io faccio un appello proprio agli alberi devono stare attenti perché questi sono ragazzi sono ragazzi che sono dei direttanti non hanno delle tuteliche se si fanno male non possono giocare per molto tempo hanno delle problematiche vogliamo anche che vanno a lavorare vanno pure a lavorare qualcuno di loro va pure a lavorare quindi sul gioco pesante sul gioco duro gli alberi devono essere più più meticolosi e più attenti e punire anche per punire perché queste sono due entrate pericolosissime tutte e due secondo peraltro di situazioni dove spolte a centro campo dove comunque il livello di potenziale pericolo anche per la squadra seppure un pericolo sportivo che non dovrebbe mai arrivare a questo tipo di falli è assolutamente sproporzionato ma la rincorsa anche di Mammarella nel tentativo di andare a contrastare il giocatore del Giuliano con lo slancio la palla non la prendi mai mai prendi la palla qui secondo me devono lavorare anche gli allenatori lo staff tecnico capire che insomma è il gioco del calcio bisogna fare attenzione è calcio direttantistico è come ricordava Vecchiotti insomma il presidente del San Buceto questi sono ragazzi che non hanno poi le tutele dei calciatori serie B dei calciatori professionistici che calcano i campi professionisti che si fanno male stanno tranquilli su cui converge anche l'opinione del direttore Sara perché tra le altre cose lo ricordiamo lei lavora direttamente con i giovani e capisce la situazione ma tutti hanno il diritto ad avere l'integrità tutelata poi ripeto sono situazioni che con un attimo di attenzione si riesce a gestire l'impeto atletico nel far sì che quella palla possa essere difesa in un certo modo nei confronti dell'avversario già che stiamo in argomento di ricolosità io colgo l'occasione per salutare e ringraziare il portiere della Delfino Curi Thomas Calore che due settimane fa con il suo intervento davvero ha salvato la vita il nostro ragazzo Federico Maiani il portiere che in uno scontro di gioco è rimasto colpito a terra e Calore è intervenuto in una maniera perfetta e quindi lo ringrazio a nome del San Bucino sarà l'occasione dal comitato regionale da FIGC perché ha compiuto un gesto straordinario una cosa veramente non erano stavano neanche in campo e quindi è intervenuto in una maniera precisa attenta e forse ha salvato la vita al nostro credito io la ringrazio perché lei sta ricordando degli episodi si vengono citati in quel momento lei lo sta ricordando quando accadono e quindi li leggiamo sui giornali ma lo sta ricordando oggi a distanza di qualche tema mi sembra il minimo che una società possa fare ringraziare anche se è un avversario ma siamo tutti amici quindi ha fatto una cosa veramente veramente grande e non avremo occasione per ringraziarlo direttamente vuole la buona notizia intanto è stato trovato l'episodio dell'intervento del portiere del Teramo sono contento la regia è pronta noi lo vediamo subito ricordiamo gara San Buceto Teramo terminata 1 a 2 per il Teramo ma si era sull'1 a 1 quando accade questo ha fatto veramente un intervento molto buono ma il tiro è eccezionale da 40 metri è da 40 metri andava sotto l'ingrocio dei pali siamo l'ha deviato appena fuori dal cerchio di centrocampo guardate qui l'ha toccato per un uomo veramente ha fatto sono sarebbe stato un euro goal in questo caso è un euro parata due gesti tecnici eccezionali lì siamo sull'1 a 1 quindi segnando quel goal andavamo in vantaggio chi lo sa vabbè però presidente al di là della sconfitta voi avete disputato una grande partita e questo lascia ben sperare non meritavamo la sconfitta assolutamente non la meritavamo però chiaramente avevi di fronte il Teramo sappiamo il valore del Teramo non è che lo devo scoprire io oggi allora vi sto lasciando per ultimo l'episodio tanto contestato però voglio proporvi anche il servizio ve lo voglio riproporre e poi andremo chiedo alla regia ci sono dei messaggi intanto da leggere li leggiamo poi a rientro andremo con il servizio sulla folgore delfino Curi Pescara vastese e andremo a esaminare l'episodio leggiamo i messaggi grazie buonasera a tutti un parere tecnico sul mercato del Casalbordino e vista l'ampia visione e l'esperienza maniacale sul mercato cosa si pensa del mercato del Casalbordino si salverà intanto dobbiamo dire che Casalbordino si è rinforzato almeno per quanto riguarda il portiere con Opara lo scorso anno era al Roma City ed è tornato al Casalbordino perché già era stato al Casalbordino ci sono state alcune operazioni di mercato però anche Ielle il derby della Costa dei Trabocchi è stata una gara molto equilibrata è chiaro che il ritorno in eccellenza Andrea dopo un anno di purgatorio è sempre difficile però io credo che sia una squadra che abbia tutte le carte in regola per poter conquistare la salvezza sì assolutamente è chiaro che siamo all'inizio è difficile fare previsioni però come abbiamo sempre ripetuto credo che anche per le squadre tra virgolette di bassa classifica ci sarà un grande equilibrio perché questo è un campionato come abbiamo detto livellato in cui tutte le rose sono preparate e pronte per affrontare questo campionato quindi è difficile fare previsioni sicuramente il Casalbordino si giocherà le sue carte per la salvezza qui abbiamo visto proprio l'intervento di Opara sull'azione offensiva del Fossa Cesia io penso che al Casalbordino forse manchi un uomo d'aria un uomo un numero 9 puro per avere diciamo così quella bocca da fuoco in grado di mettere il pallone in fondo al sacco leggiamo ancora qualche messaggio prima di andare in pubblicità grazie a Francesco Di Carlo in Regia Giuliano è la squadra più forte in circolazione in Italia qualcuno si firma Luciano Spalletti può darsi può darsi può darsi che ci vuole diciamo che Giuliano è una squadra forte però il Teramo non è da meno perché ha una signora rosa forse Giuliano ha qualche giocatore in più due giocatori per ogni ruolo il Teramo da questo punto di vista pecca un po' però poi sarà il campo a decidere siamo tra le altre cose ormai a due settimane dal derby potrebbero esserci anche importanti novità per quella gara per quanto riguarda la nostra emittente però ricordo appunto che mancano due settimane e poi lì vedremo inizieremo a capire molte cose leggiamo ancora qualche messaggio quanti ne abbiamo ancora Francesco una buona serata a tutti in particolare i miei dicinteristi in studio il mio amico lì il mio amico Presidente Vecchiotti Mimmo Sborgia salutiamo il grande Mimmo Sborgia grazie Mimmo sicuramente avrà risultato sarà stato come dire felicissimo del 5 a 1 dell'Inter al Milan quinto derby vinto nel 2023 non ce ne sono più nel 2023 sono fortunati i milanisti l'opinionista non si smentisce mai lo amiamo grazie grazie sappiamo chi è questa identità ancora conosciuta ancora non si capisce qualche altro messaggio Francesco allora se mi dici quanti ce ne sono altrimenti chiamiamo la pubblicità d'Alessandro complimenti hai giocato con il Teramo e ora fai il Digi a Cologna bravo cerchiamo di capire questo messaggio perché insomma forse Girolamo d'Alessandro potrebbe essere questo sì sicuramente perché era un messaggio ironico ma questo giovane Gabriele Tommaso classe 2007 che sta facendo molto bene a Spoltore e ragazzi quello che avevo detto io infatti il 2007 l'episodio del calcio di rigore che abbiamo commentato Presidente io e lei abbiamo detto il rigore invece il direttore e Andrea avevamo detto no è un ottimo elemento interessante 2007 tra l'altro molto 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 giovane sì molto giovane già gioca praticamente con lo Spoltore è una bella scommessa una bella scommessa ma bisogna scommettere sui giovani perché poi rappresentano anche il serbatoio per le prime squadre la Folgore ne sa qualcosa e quest'anno secondo me anche il Sambuceto ne saprà molto di più fermiamoci per la pubblicità poi Folgore Vastese invece a vedere il servizio Folgore Delfino Culi Pescara Vastese firmato da Luca Zerroli e poi commenteremo un episodio solo uno ce n'era è imbottato la Folgore Delfino continua a stupire la Vastese perde ma non sfigura è una sfida decisamente molto equilibrata quella che è una scena al San Marco di Pescara la differenza come al solito la fanno i dettagli che lanciano in orbita la squadra di Bonati a punteggio pieno dopo tre turni e che lasciano la mano in bocca agli uomini di Del Grosso che fatturano tanto ma incassano poco dai blocchi di partenza esce meglio la Vastese che ritrova all'estero la fantasia di De Vivo e la Vastese a sbloccare la situazione all'undicesimo con il colpo da bigliardo di Di Giacomo la Folgore Delfino fatica a reagire e per tornare in linea di galleggiamento ci vuole un episodio anche contestato degli Aragonesi e il rigore fischiato da Spadaccini minuto 22 che Bocchio spedisce nell'angolo alto la partita è godibile e non ha un attimo di tregua minuto 37 d'inizio per il Delfino impegna del giudice sul rovesciamento di fronte De Vivo sfiora l'incrocio con una giocata d'effetto la ripresa offre ben altro spartito anche perché il Delfino prova ad alzare decisamente i ritmi che la Vastese invece vuole gestire almeno nel possesso palla i locali hanno due grandi opportunità al sesto il colpo di testa di Martella è alto un minuto più tardi è provvidenziale l'intervento di Del Giudice che si oppone al destro di Gobbo su una veloce ripartenza è il preludio al vantaggio che arriva al quarto d'ora il Delfino è aggressivo in fase di pressing il recupero palla mette Gobbo nelle condizioni di puntare la porta avversaria il 10 di casa è preciso nella rasoiata vincente la Vastese quasi tarantolata ci prova subito con De Vivo un minuto più tardi pallone di un nulla sul fondo sull'angolo seguente Marcelli non inquadra lo specchio della porta la gara resta molto tirata gli ospiti spingono nel tentativo di trovare il gol del pari mentre il Delfino è quasi in maniacale nel recupero palla e nel rendere sporche le giocate avversarie alla mezz'ora calore decisivo nel dire di no alla battuta di Pizzo la sfida resta tesa quarantesimo ci prova Di Giacomo calore ancora attento mentre l'ultima vera opportunità la Vastese la confezione al minuto 46 con il solito De Vivo ma non è giornata il Delfino continua a correre e domenica farà visita al Teramo la Vastese invece torna a casa con la convinzione di aver offerto una buona prestazione ma di poter fare molto di più ci sono state proteste da parte della panchina della Vastese e dei giocatori per il rigore che è stato concesso alla folgore Delfino Curica adesso andiamo subito ad esaminare rigore che a mio parere è assolutamente dubbio anzi mi spingo di più secondo me non c'è perché l'arbitro è stato tratto in inganno dal movimento del pallone perché il giocatore della Vastese colpisce il pallone di testa le immagini ci dicono questo sarebbe Valeri giocatore della Vastese numero 5 che interviene poi forse la palla finisce sul braccio però il movimento è congruo nella circostanza l'arbitro non ha avuto dubbi ci sono le proteste di Bocchio che chiede appunto il rigore Valeri qui è in netto anticipo Bocchio vede il tocco di mani e si rivolge all'arbitro che aveva già fischiato Andrea inizio da te per me non c'è non c'è assolutamente calcio di rigore sì sicuramente l'arbitro è stato tratto in inganno dal movimento dalla dinamica dell'accaduto però da queste immagini si vede chiaramente che la palla viene colpita con la testa Presidente anche per me non è rigore assolutamente chiedo al direttore se vuole esprimere un giudizio credo che ci sia una possibilità che sia stato tratto in inganno non è perfetta l'immagine il gesto tecnico sembra quello del intanto questo le fa onore innanzitutto e poi devo dire che anche le dichiarazioni di mister Bonati a fine gara convergono sul fatto che l'arbitro sia stato ingannato anche questo noi lo facciamo vedere questo episodio lo facciamo rivedere anche più volte anche a beneficio del direttore di gara perché magari rifletterà prossimamente nella circostanza è chiaro che noi non abbiamo la tecnologia noi commentiamo questo episodio perché lo rivediamo il giorno dopo la sera stessa abbiamo la fortuna di rivedere gli arbitri dilettantistici non perché sono dilettanti perché il calcio è dilettantistico il livello dilettantistico ricordiamo che il VAR è stato introdotto la VAR anzi è stata introdotta in Serie B solo da poco in Serie A c'è da qualche anno in Serie C solo in occasione dei playoff e credo anche nei play out quindi è in quel momento che l'arbitro deve prendere una decisione una frazione di secondo è una frazione di secondo secondo me è stato tratto in inganno perché il pallone viene colpito da Valeri di testa e poi probabilmente tocca il braccio ma sappiamo che il movimento è congo e la regola dice che non è il rigore quindi questo è quanto per dovere di cronaca e chiarezza per spiegare anche perché c'erano state le vehementi proteste da parte della vastese allora direttore vengo subito da lei perché questa è stata la partita più bella della giornata al di là anche del successo dell'angolana su Summona ma questa è stata secondo me una partita tra due squadre forti fisicamente tecnicamente dotate ben messe in campo dai due allenatori ottima difesa della della folgore del finocuri pescara un pacchetto centrale forte per quanto riguarda la vastese De Vivo credo che sia uno dei migliori giocatori in circolazione in questa categoria voleva dire qualcosa Cristiano? no no ah conferma De Vivo eccezionale voi avete tutte le carte in regola sia folgore che vastese per dare fastidio alle presunte grandi Teramo e Giulianova sicuramente noi abbiamo avuto la possibilità di di confrontarci con il Teramo dove si vede che l'organicità da una parte e anche le individualità portano a vedere che i giocatori che hanno nel loro DNA una categoria superiore mezza categoria superiore noi dobbiamo far sì che il collettivo il grande lavoro svolto da tempo e tutti i giorni riescano a far sì che le caratteristiche individuali per cui in questo caso la vastese abbiamo notato che aveva un certo campo molto corposo noi eravamo più di di blocco ripartenza ecco con una difesa arcigna tendenzialmente viene chiesto ai giocatori di non risparmiarsi su ogni pallone abbiamo visto ma neanche loro l'hanno fatto e poi comunque delle ripartenze veloci perché comunque il pacchetto che è avanzato sia tra i titolari che tra quelli che subentrano che chiaramente sono dei doppioni equivalenti riescono sempre riescono a garantire una ripartenza importante come due episodi di cui uno è stato tradotto in gol ecco abbiamo visto infatti il gol del 2 a 1 del vostro vantaggio comunque che poi vi ha dato il successo è una ripartenza veloce anche un tiro diciamo millimetrico con il pallone ben appiazzato andiamo a vedere adesso il prossimo turno di campionato siamo in conclusione di questo appuntamento se ci sono dei messaggi li leggeremo subito dopo la prossima turno di campionato ricordiamo che domenica le partite iniziano alle 15 andremo avanti sino all'ultima domenica di ottobre con questo orario poi si tornerà alle 14.30 mentre linea gol domenica partirà alle 14.30 con collegamenti da tutti i campi Monte Silvano Vidiana Sulmona Capistrello Sambuceto Teramo Folgore Delfino Curi Pescara Renato Curi Angolana Celano Spoltore Castelnuovo Torrese Sante Gidiese Fossa Cesia Giulianova Vastese Casalbordino dunque un altro derby del Sudabruzzo Virtus Cupello Ponte Vomano inizio proprio dal presidente e dall'anzi dal direttore Sara Roberto Sara direttore generale della Folgore del Finocco di Pescara andrete a casa del Teramo a casa del Diavolo al Bonolis che gara sarà intanto noi dobbiamo andare là e ricordarci che dobbiamo avere un livello di attenzione diverso dal ritorno di Coppa Italia dove una serie di disattenzioni è un gioco che è a loro favorito per dinamiche di campo anche delle quali noi dobbiamo essere sempre bravi ad abituarci perché è vero che se da noi gli altri si devono abituare a un terreno più compatto di dimensioni noi dobbiamo essere bravi ad abituarci nei terreni dove si parla di 100x50 e quindi tutte le dinamiche di slittamento sono diverse e quindi un approccio diverso e dall'altra parte non dobbiamo essere consapevoli che andiamo a giocare la partita con una serenità e determinazione quindi non per portare a casa il minimo però voi dopo vasto affrontate un'altra big che è il terreno sicuramente le risorse devono essere attentamente gestite sappiamo che lo staff tecnico ha lavorato fin da ieri per questo e quindi dobbiamo essere bravi a far girare il roster e a far sì che si continui a fare quello per cui siamo chiamati Presidente una domanda direttore una domanda inizierete gli allenamenti alle ore 15 per abituare la squadra tendenzialmente gli allenamenti che si sovrappongono agli orari delle partite vengono sempre fatti quindi insomma sarà una valutazione d'insieme per arrivare lì pronto rivediamo rivediamo un attimo il programma del prossimo turno grazie a Francesco Di Carlo perché ci interessa anche la partita del San Buceto che rende visita al Capistrello che ha battuto in trasferta il Ponte Romano due punti in classifica avete affrontato una big del torneo non avete sfigurato che partita sarà presidente allora prima di parlare di me innanzitutto vorrei dire che a onore del merito di questo torneo il campionato del giornale di Cerenza dalle filmatiche abbiamo visto partite brutte non ce ne sono state sono state tutte partite tirate belle con tanti gol tante azioni quindi si prospetta se continua così un campionato bellissimo bellissimo è difficilissimo è difficilissimo veramente i risultati finali si conteranno un punto due punti ma non di più perché sono tutte squadre che giocano veramente veramente bene noi domenica andremo a Capistrello cominciando a sperare di fare il bottino pieno di ottenere il primo successo siamo a due punti e onestamente ci sentiamo un po' penalizzati perché secondo le nostre valutazioni 4-5 punti noi lo potevamo potevamo averli noi abbiamo esaminato gli episodi e quindi quindi ci sentiamo così la prestazione della squadra migliora di domenica in domenica e questo ci lascia ben sperare il lavoro di mister Delzotti il suo staff sta andando alla grande quindi i giovani cominciano a fare più esperienza quindi noi da domenica sicuramente dovremo cominciare a fare i primi risultati pieni perché ci dobbiamo mettere subito in una situazione di tranquillità dove puoi gestire il campionato perché se dopo cominci a perdere anche perché ripeto io squadre Cuscinetti per il momento non ne vedo non ne vedo squadre anche chi è in difficoltà all'ozione classifica però ha dimostrato in questo momento ma c'ha tutte le risorse tutte le forze per poter rientrare in gioco Andrea concludo con te per quanto riguarda questo prossimo turno di campionato per te oltre ovviamente alla partita della Folgore qual è l'altra gara che suscita un certo interesse sicuramente come hai detto Teramo Folgore sarà la partita la partita di punta poi c'è la partita del Ponte Umano che sarà a Cupello contro la Virtus Cupello il Ponte Umano lì sarà chiamato naturalmente a muovere la classifica perché sicuramente il valore della rosa non rispecchia non rispecchia la classifica e quindi il Ponte Umano sicuramente andrà a Cupello a fare una partita per vincere allora ovviamente non voglio lasciare in sospeso i messaggi per ringraziare i telespettatori che ci seguono sempre numerosi lunedì sera se ci sono messaggi prego Francesco Di Carlo di mandarli in onda li commentiamo velocemente l'intervento su Giglio non ha fischiato neanche la commissione ero allo stadio guardate bene Giglio è uscito malconcio e purtroppo l'arbitro lì ha sbagliato c'è ancora un messaggio Francesco se ne abbiamo quanti ne abbiamo ancora buonasera a tutti sono il vicepresidente Sambuceto sono stato per tutta la durata della gara di sabato accanto alle truppe delle visione posso garantire che è stata una giornata di grande calcio complimenti ai tifosi Terramani e questo conferma quello che ci diceva il presidente Vecchiotti su quell'episodio probabilmente un pallone finito magari non scagliato volutamente è venuto dal campo di gioco e quindi è accaduto questo episodio senza alcuna volontà e quindi violenza chi vincerà il campionato bella domanda qui non possiamo rispondere perché è un campionato assolutamente avvincente fortunatamente avvincente e fortunatamente ritrova il derby tra Giulianova e Teramo e ci sono altre squadre che daranno tanto tanto fastidio come abbiamo detto secondo me Angolana Folgore e Sulmona saranno quelle anche la Sant'Egidiese io non lo escluderei anche se la Sant'Egidiese ancora da decifrare va decifrata ancora meglio abbiamo concluso con i messaggi si abbiamo concluso finito bene ringrazio i nostri telespettatori ringrazio il presidente Vecchiotti per la sua partecipazione grazie a voi grazie presidente bocca al lupo ovviamente grazie al direttore generale della Folgore del Filoncuri Pescara Roberto Sara per la sua disponibilità grazie in bocca al lupo ovviamente per l'avventura della Folgore in questo campionato grazie Andrea Sciaritti ci ritroveremo lunedì prossimo grazie buonanotte lunedì d'eccellenza tornerà come sempre di lunedì arrivederci grazie a tutti